Buonasera a tutti e benvenuti bentornati con lo sputo nell'occhio bentornati schifo schifero è una schifezza comunque ragazzi siamo tornati con le nostre custom map bruttissime e orribili schifero è una roba guarda ricordata io guarda i dettagli comunque la mappa di oggi l'ho trovata si chiama dragon ball in vanilla non so cos'è non so cos'è ma qualcosa porter mi vedevo spostare comunque ragazzi non so cosa farà sta mappa vi ricordo già di lasciare il pollice in su senza che questa qua mi butta di sotto e guardate cosa succede se mi giro boom bello però eh è bello ma non credo l'abbia fatto lui non credo non ci sono le regole quindi noi stiamo in game le reccole poi non sappiamo neanche se dobbiamo entrare da questa parte non sappiamo un cavolo apri niente niente qua c'è spawner qua c'è un'altra porta ci sono dei spawner qua ma dove questo c'è ma what the fuck che c'è vabbè pull lever ok cosa fa la leva cosa è successo ah si apre il buon letto io dormo qui sotto buonanotte aspetta dormo qui ah come ci sta comodi come ci sta comodi basta dai non dormire non poltrire andiamo ci hanno vabbè andiamo giù di qua ebbè l'unico posto non hai tanta fantasia riesco c'ho il salto quello lì che mi fa saldare eh disattivato io eh cazzo allora siamo qua perchè il cartello in inglese oh mani dragon ball z character dos it take vabbè il mio inglese fa schifo vabbè c'è scritto qualcosa dai eh l'acqua c'è un buco c'è eh ma qui ci sono delle cose guarda roberando oh dai di rompere tutto eh non me ne sono non mi ricorda toh prendile grazie molto gente troppo gentilezza troppo gentilezza adesso possiamo vedi che sul tipo a saltare minutilmente io no qua manca un blocco ho messo la torcia allora super saian 1 tieni uno smerando e sali due volte nella pedale ce l'abbiamo di smerando ma cosa super saian 2 prima la pedale eh guarda nether io me li give ascolta eh guarda nether guarda nether passare due volte per la pedale per il nether star la nether star super saian 2 allora aspetta 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 qui c'è una chest ehm che cazzo ci fanno dei command block qui con delle palle di neve ma che cazzo è sta roba bello ragazzi non so cosa dire non so cosa dire vabbè quindi eh sali qui sopra senti diviamoceli si ho già presi eh sali due volte nella pedana quindi 1 cos'è che devi prendere? 2 ma ho delle palle di neve so mi ha dato velocità glowing ma sali luminoso oddio sali luminoso aspetta lo voglio fare anch'io oh mio ma che capo sei scemo ma che figata ma sei scemo fermo ma sono palle di neve ma anch'io l'umiscente? si che figo allora questa qui di sicuro è presa giù da internet sicuro parla su di me guarda che sono luminosa si ma siamo luminosa se vai dietro un muro io ti vedo aspetta che posso il suono ragazzi perchè è un suono troppo alto adesso voglio provare qua allora con una nether star da me ne una anche a me che non c'ho voglia di cercarla aspetta aspetta beviamo il latte prima che voglio resettarmi dammi tutto anche a me non c'ho voglia di cercare vieni allora con una nether star ne da un altro perchè non riesco a centrare cosa mi serve ok andiamo nether star nether star altre palle di neve? uguale oh ti fanno saltare eeeh modonno 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 che figata ma è fighissimo ma guarda fa le parti ma è bellissimo fai saltelli mentre lo fai ma è bellissimo ragazzi vi giuro non c'è la crack shot eh super silent bevi 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 beviamo beviamo ehm sali due volte nella pedana con un end crystal end dammela a me end road magari si prende un nether crystal eccolo qua tac con questo ti salisci sopra con questo aspetta mi tolgo queste cose perchè mi danno fastidio ok ok fatto oddio sono velocissima ah che coglianetto ma è sempre le stesse cose è sempre uguale non cambia in cast cioè e però ti da più cose se ne sento ti da velocità ti da eh si guarda madonna velocissimo cos'è super saian god super saian god super saian no prima qui prima qui prima qui ah basta troppo veloce aspetta mi cavo steppare di neve stai giù sulla pedana passa pedana con testa di drago testa di drago vediamo anche la testa di drago presa anch'io averlo lanciato una la indossi indossa la mia una più carina uno stack di testa di drago oddio madonna è più veloce non me l'ha dato una roba mi ha fregato ma mi ha trollato perché ma non mi ha dato un cazzo si ma mi ha dato tre stacche di palle e la madonna ma è uguale non cambia come cazzo come cazzo ci sono arrivato qua ah ma è velocissimo david troppo troppo veloce sei rosso sei rosso anch'io che figo ah e come aspetta come si chiamano quegli occhiali dei super saiyan occhiali ah quelli che rilevano la forza non lo so sinceramente come si chiamano che abbiamo quella vista praticamente che figo infatti ragazzi diteci voi come si chiamano che non me lo ricordo ormai coi me lo ricordo rivelatore di forza ah ah latte 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 ok questo abbiamo fatto madonna c'è di mettere piena di palle super saiyan una bella di nocce una bella di nocce una bella di nocce quindi quella dora 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 adorata incantata in teoria ok e sale sul no eh no quella ho preso quella dora sei sicuro che funziona? eh ha una una golden è spento una golden apple una eh una ha ne ho in mano ma non va è mai spento e' circuiti spenti non vedi minecraft golden apple questa si ma è tutto spento ma è normale perché questo non lo legge ecco pure ho sbagliato aspetta vediamo gli altri come sono settati ah ho capito imbornito cosa ha fatto ha messo il suo nome anfibio 19 anfibio è un figlio 19 wow vediamo adesso dai fatti aiuto aiuto porca di quella infinito ma non ho le palle di neve ma aiuta si aspetta a me non funziona davis aiuto aiuto a me non funziona non funziona davis aiuto come cazzo fai fatto si che sei blu e non mi dà la velocità e prova con la mela di noce non è solo luminescente aspetta prendi la mela ce l'ho la mela troppo veloce non riesco a no niente però quella inciantata quella inciantata ah ma l'ho fatto prima aspetta prova ah troppo veloce niente aspetta ma lontano forse lo prendo io per errore prova si oh mio dio si però si riesce a vivere come si fa aiuto perché sei gialla e tu che colore sei scusa anche tu mi sei tolto tutto io tutto a mi sa che ho le tue palle tieni a grazie molto gentile se mi dà le mie palle molto gentile ci tenevo le mie palle che figata però ma fan danno sti cose taglitela game taglitela 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 si mi cavano un paio di cuori si mi cavano due cuori e mezzo basta sono veloce sono veloce a fare game mode 1 eh sono veloce vai basta finito basta dai che palle esploriamo esploriamo ancora un pochino esploriamo corpo ma mi ha tolto tutto perché ho tolto tutto anche a me comunque esploriamo su regola velocità infinita chiaramente me la sono tolta volentieri dove dimmi dove vai sto esplorando vedete qualcosa da fare ma fuori boh ma sei fuori sì di melone sì ma intendo fuori qui sei fuori davis sa che hai crashato ah ok mi spieghi perché c'è meta obelisco come l'obelisco allontanati vieni qua dove sono io girati e guarda giù e cosa c'ha eh il resto dov'è ah ok e cosa sono questi cartelli grazie team full star hi hi i am ma nappa vetsu vegeta brisom beach sono quelli che hanno costruito credo super kamiguro nananananananana dende nananananana ma che cazzo di pappa è questa cos'è look vegeta allora ragazzi allora questa è una mappa che un italiano geniale ha voluto rubare e l'ha pubblicata come sua peccato che non è sua e l'ha copiato non ha neanche tradotto i cartelli non ha tradotto i cartelli ha copiato solo metà mappa cos'è sta roba bella perché non facevamo un cappero perché non c'era a proposito ma che resta una mappa a proposito hai visto che ci sono dei poke center ah è vero avviando il server c'era scritto che ci voleva la pixel mon qualcuno mi spiega perché serve la pixel mon anche se c'era scritto che non serviva ma io vorrei capire perché non riesco a capirlo c'è la pixel mon cazzo serviva la pixel mon c'è questo bambino ha fatto partire la mappa che esplode ha fatto partire la mappa con la pixel mon e poi l'ha lasciata così c'è non ho capito cosa ha fatto non lo capisco si questa è spudoratamente copiata da paura ma ragazzi qui sinceramente non vi farò tagli perché ve ne farò pochissimi perché tanto non c'è un cazzo da vedere appunto però da far capire che sto cazzo bambino stupido si detta gentilmente copia le cose oddio ho rotto un pezzo bene l'ha fatta lui no no non l'ha fatta lui bene ragazzi spero che vi possa essere piaciuto è la mappa purtroppo era quello che era e più di così purtroppo non riusciamo a fare perché la mappa è quello che è se la mappa vi è sembrata abbastanza brutta e copiata ma brutta e no perché è carina dai copiata sì copiatissima lasciate il pollice se non vi è piaciuto questo video commentatelo e condividetelo ovunque anche al cesso mi raccomando e niente per il momento finita possiamo dire che è finita pocotudo donna distruggono purtroppo non distruggono ste cose un poccato perché le palle non distruggono scusa le palle ma tu ancora che guardi le palle pensa che ne ho un paio e allora scusa la tnt la tnt non serve un cazzo le palle fanno il vero dolore e e e e e e e e e